Tocca adesso Firenze Tocca arriva la stoppata Poi si va per Compagnette che va fino in fondo Alessandri, pallone dietro per Rossi, un dietro la schiena clamorosa Lo scarico per Severini da lui a Schiano, Castelli con l'aiuto Di Swanson Dieci secondi, Marino contro rivali, lato sinistro, Marino contro Fogliera Lo scarico per Krestovic che si alza da due Ma da tre, è da tre incredibile Ma c'è Cantone a dare una mano al numero 7, Bianca Azzurro, ci provoca Kyle Austin, triple impossibile L'anticipo su Rabaglietti da parte di Kyle Austin che va a schiacciare Oh, il tiro da due per il supplementare Si va il tiro da due, è straordinario Il tiro da due per il suo